Buongiorno, scusate il ritardo per il consueto appuntamento intraday con l'analisi ciclica su Bitcoin, Ethereum e Solana, ma obiettivamente è talmente impallato tutto in laterale che mi sono detto me la prendo comoda, tanto sono giorni in cui in ogni massimo non si può fare nulla. Allora partiamo con il piccolo stop che ho preso ieri, come del resto vi ho detto ieri mattina, la fase ciclica era ribassista, sono rimasto tranquillo e beato di aspettare tutti i vari movimenti Akatsum e poi ho avuto la brillante idea di prendere lo short sulla rottura del livello. Il mercato mi ha pizzicato perché io l'ho messo tipo qua, mi ha pizzicato, mi sono preso in faccia istantaneamente praticamente l'esplosione da più 4,40 ok, generata dagli indici americani perché come ha aperto america è partito tutto a missile al rialzo e poi ho chiuso qua, ho chiuso più o meno qui, ho chiuso con una perdita piccolissima perché guardate il numero di punti è stato veramente ridicolo, però mi sono girato le balle perché è uno schifo di mercato completamente in congestione, del resto si sa, il periodo estivo è così e vabbè paciamo, non ci sta, meno male perché avevo comunque lo stop messo qua, tra l'altro ho messo anche un po' forse sbagliato perché per metterlo qui tanto vale lo metti sopra i massimi dell'8 agosto, non che fai il fenomeno, cioè il fenomeno, fai la scemenza di mollare l'1% su bitcoin che equivale a 5 minuti di volatilità, comunque vabbè è andato tutto sommato bene nonostante il piccolo stop che ho preso, ma ripeto poca roba, niente di che, e mercato laterale vuol dire mercato a 100% fortuna sostanzialmente, se ti trovi nel momento in cui parte la lateralità dalla parte diciamo sbagliata della lateralità prendi lo stop, cioè dal lato sbagliato della congestione prendi lo stop, ciclica o non ciclica, quando il mercato è così ci si fa male, quindi per oggi non cambia nulla, uguale a ieri, stesso livello di ieri, anzi no, il livello si è spostato ovviamente più in basso perché il livello di guardia sarà ovviamente la rottura di 57.637 e abbiamo tutta la giornata che è in fase di ribasso fino alle 19.30, poi 19.30 quello che accadrà non ho la più palle di idea e qualora il mercato dovesse rimanere intorno a quest'area ovviamente alle 19.30 si potranno valutare perché no i livelli di resistenza, ok, però il mercato dovrà essere qua, io chiaramente non posso sapere dove sarà perché se dovesse essere qua sotto sarà poi questo il livello da utilizzare e chi mi segue deve, ormai lo avrà capito, se è la prima volta che mi stai guardando cerco di spiegarti la velocità della luce per evitare di perdere, di fare un'analisi troppo lunga io lavoro con l'analisi ciclica che è l'unico metodo previsionale con un'affidabilità del 90%, quel 10% vuol dire che sbaglia, ok, 10% che può essere consecutivo oppure può essere distribuito, non lo posso sapere, posso prendere 10 analisi consecutive sbagliate e farne 90 giuste oppure 1 ogni 10, che ne so, una roba del genere, è normale che sia così. Gli orari che vedi sono 2 ore indietro rispetto a noi perché la piattaforma è 2 ore indietro, quindi 17,30 sono le 19,30, 6, vabbè 6,07 sono le 6, sarebbero le 8, ok? Cosa significa 19,30? Significa che il mercato potrà fare due cose le 19,30, cioè potrà salire, dovrebbe salire su base ciclica, però dove potremo prendere un long? Dipende dove saremo come prezzo, io non posso chiaramente sapere il prezzo, il prezzo non si può prevedere con nessun metodo, non esiste nessun metodo che preveda il prezzo, con l'analisi ciclica riusciamo attribuire importanza al prezzo quando siamo arrivati su un determinato livello, se siamo vicini a un massimo o minimo ciclico, tipo qua, probabilmente molti cercheranno un long perché bitcoin è solo long, io piuttosto ne perdo il long, ma bitcoin è short, quindi ciclicamente, quindi andrei solo alla ricerca di posizioni ribassiste, posizioni ribassiste che al momento vedono come supporto però al livello qua sotto, 57.627, è vero che si potrebbe cercare una rottura di questo livello, ok, ma ne avremo subito un altro qua, non ha senso, invece in questo caso avremo un po' più di spazio da poter lavorare perché avremo strada tra virgolette libera fino più o meno aria a 56.681, con un bitcoin così congestionato è anche difficile fare operatività, questa candela probabilmente verrà riassorbita e quindi questo appunto sarà il successivo livello eventuale di target, però dicevo il 19.30, che cosa si dovrà fare per cercare un rialzo? E ne avremo diverse possibilità perché se saremo da queste parti bisognerà chiaramente prendere questa zona e cercare poi, scusatemi, cercare poi una fase di rialzo che è chiaramente nell'orario corretto, se invece saremo qua sotto dovremo cercare a questo punto di fare questo di entrata, però l'importante è valutare sempre l'orario, ok, mi raccomando, quindi per quanto riguarda la mattinata siamo in una fase ciclica ribassista, ma il mercato fa schifo, è completamente impallato, vedete le medie mobili, cioè continua il prezzo ad attraversare le medie che sono diventate praticamente una media sola e quindi ci fa capire che è un mercato che non va assolutamente tradato, nel modo più assoluto non va preso in considerazione, cambia. E questo è invece Solano, vediamo dopo, Ethereum, Ethereum è in una fase ciclica di fondo che sta per diventare rialzista, in realtà lo è gerenziato ieri, infatti il mercato tutto sommato è salicchiato, si è piantato in totale lateralità e poi avevamo previsto all'evento il rialzo e guardate, all'evento è preciso come un orologio il mercato ha girato, è stato tutto ieri mattina come uno schifo, ma anche perché adesso anche America va tradata soltanto di sera per almeno 15 giorni, a parte oggi con i dati che non ho idea di cosa succederà. Abbiamo adesso una fase di ribasso fino alle 17, quindi stesso concetto che vi ho spiegato un attimo fa, ok? I livelli di guardia sono fino alle 17, qui è un bel casino perché io andrei a prendere questo come livello di supporto al momento, il mercato sta tenendo effettivamente i minimi delle 21 di ieri, però cosa facciamo? Prendiamo questo ribasso per fare 10 punti, 100 punti, 100 dollari di movimento, non ha senso, conviene andare a prendere quello che ci garantisce un po' più di movimento, oddio, che poi non è che sia molto di più, che però è la rottura di 2586, invece intorno alle 17, e qui saremo non lontano al dato alle 1430 America, intorno alle 17 potremmo cercare invece condizioni realtiste, stessa identica cosa che abbiamo visto per Bitcoin, se siamo intorno a questi livelli qua chiaramente andremo a prendere come livello di riferimento, ovviamente la resistenza posta in area 2751, se invece saremo al di sotto dei vari supporti che saranno aumentati a resistenza utilizzeremo quelli per cercare i rialzi, io non credo che andremo sotto tutto il possibile a livello 2508 e qualora però dovessimo essere tra il 2508 e chiaramente il 2600, allora poi prenderemo questo, il 2600 come livello per un long. Ovvio il mercato sopra le medie è rialziste sotto le mie medie, quelle che utilizzo io, è ribassista e varia sempre la pena utilizzarle comunque come filtro per l'operatività, in questo momento il mercato si sta portando sotto, quindi ci sta andare a cercare dei ribassi, tra l'altro abbiamo avuto anche un bel incrocio, stiamo avendo un bel incrocio della media più veloce sulla media media più lenta e quindi ci sta confermando un ribasso, però ripeto attendere per forza la rottura dei vari livelli di supporto. Se vuoi approfondire la mia metodologia mi puoi trovare sul sito tradingpertutti.com, orto e chiaramente iscriviti al canale Teagan gratuito, ti invito ad andare sul Volta, dettagli, abbonarti e avrai accesso alla mia metodologia, al mio indicatore e al mio sistema unico per prevedere che cosa farà il mercato nel futuro e ripeto sono l'unico che ha l'indicatore che non cambia mai, quindi ti puoi prendere la riga di andare a vedere tutte le analisi nel passato io non mento, nel senso che non do 3.000 occasioni oppure 3.000 opzioni oppure come va anche molto di moda adesso non vado a generare 50 livelli sopra, 50 livelli sotto per poi dire che uno di quelli ha tenuto e che quindi la metodologia è eccezionale, no perché è troppo facile in questa maniera. Io mi metto in gioco, uno in unica direzione, se la prendi in faccia pace ama, è normale, fa parte del lavoro e per fortuna la maggior parte delle volte il mercato fa quello che prevede il mio indicatore, non perché sia magico, perché semplicemente è statistica, è vera matematica e quindi va a prendere il passato e a riprodurlo nel futuro, ok? Con l'unico componente analitica previsionale che funziona che è l'analisi ciclica, tutto il resto non è assolutamente nel modo più assoluto e statistico, il tempo invece sì, tutto ciò che è legato al prezzo non è purtroppo statistico e mi fa anche strano che non capisco come non ce ne possa non rendersene conto. Andiamo a vedere adesso Solana così poi ci salutiamo, Solana anche lui, anche lei ovviamente è completamente in laterale, mi si stava incartando la lingua, andiamo a mettere anche qua i vari orari, gli orari che vedi sono quelli dell'analisi precedenti, posso mettermi pare per tre mesi, poi li devo cancellare per forza perché non me ne fa più mettere la metatrader, così puoi vedere di quanto sono stati sbagliati rispetto poi a ciò che è veramente accaduto sul mercato, quindi gli orari non sono in uso degli orari, se tu guardi la stragrande maggioranza delle volte è stata di una precisione incredibile, qua ad esempio ha toppato, qua è stato corretto, corretto, questo non capisco perché qua dovrebbe essere sotto al prezzo, comunque ha toppato, il mercato è rimasto laterale, qua giusto è salito, qua sono stati un po' in ritardo, poi il mercato vedete che però poi è stato precisissimo per vedere il crollo, questo è il mio indicatore e ripeto non le cambio le date per evitare, tanto so che io posso farlo e diciamo i miei colleghi non sono in grado di avere uno strumento come quello che ho io, è inutile negarlo. Solana, una schifezza, abbiamo il minimo previsto per le 22 e il massimo previsto per le 11.30, tendenzialmente non starei a prendere neanche in considerazione il massimo delle 11.30 e mi concentrerei solo sull'eventuale ribasso. Stessi livelli di ieri, il livello di supporto sarà 140 e 85, però dovesse partire un missile al rialzo e magari andare a rompere questa resistenza, diventerà comunque interessante perché si potrà utilizzare per un ingresso a ribasso, non per longar, ma per un ingresso a ribasso perché manca veramente poco tempo, un'oretta, poco più alla fase ribassista. Un'eventuale rottura chiaramente del livello di 140,78 potrebbe spingere, beh avremo come primo livello di supporto chiaramente 135,99 e poi il livello successivo che sarà tutto questo centro dell'area di congestione di 131,34. Con questo direi che è tutto, oggi toglierò tutte queste schifezze di iscritti, le metterò più scure perché incasinano il grafico e ti auguro una buona giornata. Ciao ciao!